Comune della Spezia, Polizia di Stato, SD, Spezia Woman, uniti nella lotta contro la violenza sulle donne. Un momento di sensibilizzazione per gli studenti delle scuole spezzine si è tenuto quest'oggi in Sala Dante. Dare molta informazione, informazione non solo ai ragazzi ma a tutte le persone della nostra città, ovviamente anche alle donne perché ci sono stati ben già dall'inizio dell'anno nove infemminicidi. Noi abbiamo un centro attrezzatissimo, il centro Irene, dove è supportato da psicologi, quindi quello è già una cosa importante. La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani. Come si pone la Polizia di Stato in tal senso? La Polizia di Stato in tal senso, generale ma anche esclusivamente la questura della Spezia, si pone in maniera organica per cercare sostanzialmente di interrompere le condotte dell'autore anche in assenza di un procedimento penale, di avere una tutela rapida nell'intervento di queste circostanze, di questa situazione e soprattutto intimano l'autore di certi comportamenti che se dovesse continuare a reiterare certe azioni si troverebbe davanti all'autorità giudiziaria per affrontare un procedimento penale. Testimonia della giornata, la squadra di calcio femminile dell'ASD Spezia Woman. Il fatto di essere qua e facendo presenza come donne che giocano calcio, che facciamo comunque una rivoluzione dentro in campo, penso che sia una cosa importante per noi fare queste cose, essere participe di questo. Pensiamo anche che un po' tutto sta cambiando e che piano piano stiamo trovando il spazio che ci meritiamo, quindi penso che tutto questo aiuta e siamo contenti di essere participe di venire a un luogo come questo e farci vedere.